Chi si opponeva a questo era un personaggio che poi ha avuto una tradizione storiografica piuttosto ostile e cioè Robespierre, il quale pronunciò nell'aprile del 92 un celebre discorso i popoli non amano i missionari armati cioè quelli che ti vengono in casa dicendo io ti porto la libertà ma la storia era molto precedente visto che questo tema esportare la libertà è piuttosto diffuso e ritornante mi piace a questo punto fare un salto all'indietro molto spericolato e cioè ricordare che la parola d'ordine con cui ebbe inizio la guerra del Peloponneso cosiddetta non dai contemporanei ma dagli storici la parola d'ordine con cui la grande potenza militare terrestre Sparta dà inizio alle ostilità e invade l'Attica e portare la libertà ai greci anzi addirittura c'è un ultimatum potremmo dire che viene recapitato alla dirigenza ateniese a Pericle che la rappresenta a livello più alto un ultimatum consistente nell'ordine di lasciare autonomus tusellenas quindi concedere restituire la libertà identificata con l'autonomia statuale a questo punto ai greci un uso strumentale del concetto un uso strumentale se pensiamo che in realtà la causa vera come la chiama uno storico d'epoca che era anche un protagonista e cioè Tuscidi di Ateniese era la convinzione ormai ingeneratasi nella dirigenza spartana che la crescita della potenza ateniese fosse ormai intollerabile era andata troppo avanti arrivava dentro il Peloponneso con il blocco della città di Megara quindi non si può tollerare oltre quindi la guerra però ci vuole una motivazione nobile e quindi l'ultimatum è libertà per i greci portare la libertà anzi l'ultimo atto di quella guerra lunghissima durata tra varie alterne vicende oltre 27 anni la scena finale la leggiamo nel secondo libro dell'ellenica di Senofonte è molto sintomatica cioè Atene si arrende dopo un assedio tremendo la gente muore di fame non è possibile resistere non c'è più la flotta si accetta la pace senza condizioni la resa è incondizionata e vengono distrutte le mura che proteggevano Atene l'umiliazione massima è che sono gli Atenesi stessi costretti a demolire le mura che erano l'elemento di forza della loro potenza militare e il racconto che leggiamo nello storico che parla di queste cose che ha anche egli un contemporaneo e forse addirittura un testimone oculare un po' più giovane di Tucidide si chiamava Senofonte poligrafo del quale abbiamo tantissimo in quel giorno ritenevano che incominciasse la libertà per i greci perché si demolivano le mura che costituivano il punto di forza dell'impero Atenese quindi la parola propagandistica ritorna al termine della vicenda poi la vicenda ha sviluppi dei quali qui non mette conto parlare però raccontando questo uso del termine palesemente strumentale è giusto addentrarci in una realtà che conosciamo ancora meglio se vogliamo quella del mondo romano tardo-repubblicano perché dico questo? perché le parole della politica sono quasi tutte di età classica democrazia, tirannide, libertà, monarchia sono tutte parole o greche o latine anzi sono quasi tutte greche tranne libertà peraltro in latino non esiste la parola democrazia ma esiste in greco e quando i pensatori politici romani o i politologi, non so come chiamarli o i politici di professione volevano parlare del mondo Atenese in particolare non riuscivano ad esprimere perché in latino la parola non esiste e dicevano eccesso di libertà nimia libertas anche in Cicerone si trova questa espressione nel De Repubblica e Cicerone è uno dei massimi pensatori politici a noi giunti del mondo tardo-repubblicano queste parole hanno una storia in greco c'è il corrispettivo di libertas se vogliamo ed è eleuteria che ha avuto meno fortuna negli esiti moderni noi abbiamo recepito libertà da libertas latino però le due cose sebbene apparentemente siano collimanti non lo sono propriamente, non lo sono del tutto c'è un bel libro di tantissimi anni fa che meriterebbe forse di essere anche riproposto di un giovane, allora giovane, ma studioso di origini polacche ma israeliano di cittadinanza che si chiamava Virsubsky intitolato Libertas è un bellissimo libro in cui studia questa parola nel mondo tarda-repubblica-principato e lui dice una cosa che viene in taglio molto opportunamente nel quadro di quello che ora stiamo raccontando e cioè eleuteria e libertas eleuteria esprime nella prassi concreta che noi conosciamo per il tardo quinto secolo avanti Cristo per il quarto almeno in parte è un massimo di diritti libertas è un minimo di diritti cioè le due parole sono apparentemente identiche però calate in due realtà molto diverse che funzionano in modo diverso facciamo un esempio concreto l'assemblea popolare ad Atene piccola realtà, sia ben chiaro la Repubblica Romana è una realtà molto più grande e dopo la guerra sociale tutta l'Italia è Roma quindi è apparentemente una città-stato in realtà è uno stato dal punto di vista territoriale funziona in modo curioso però è tutt'altra cosa rispetto alla piccola realtà adeniese 30.000 cittadini di pieno diritto quindi una realtà microscopica importante per noi ancora dopo millenni però una realtà in oscola l'assemblea popolare l'iniziativa non è soltanto di chi presiede o dei magistrati anche il comune cittadino ha l'iniziativa può avere l'iniziativa di proporre cosa fondamentale nella Conzio Romana nell'assemblea popolare presieduta da un magistrato o nel caso dei comizi tributi da un tribuno della plebe il cittadino non ha l'iniziativa può reagire alle proposte che gli si fanno dire sì o dire no che è cosa molto diversa perciò un minimo e un massimo ma c'è di più la parola greca e l'euteria nasce in ambienti aristocratici è un elemento connotante le aristocrazie le quali si contrappongono ad un potere personale che noi chiamiamo tirannide perché da un certo punto in avanti questo termine è entrato nell'uso ma all'epoca è usato parallelamente ad un altro termine che non ha avuto nessuna fortuna nelle lingue seguenti ai sumnetes che vuol dire mediatore e all'origine il tiranno è uno che media tra le parti in lotta inconciliabile clan aristocratici che si fanno la guerra e che hanno un seguito subalterno gli aristocratici penso all'isola di Lesbo noi conosciamo grazie al poeta Alceo che era un fanatico politico violento il famoso Nunc est bibendum moraziano è una traduzione latina di una esplosione di gioia di Alceo perché è stato ammazzato il tiranno da lui detestato da lui dai suoi amici familiari del suo clan quindi gli aristocratici rivendicano l'eleuteria contro un potere personale che non di rado ha una sua base popolare nel caso di Atene per esempio Pisistrato il fondatore di quell'esperimento di tirannide cioè di potere personale durato in varie parentesi una sessantina d'anni quasi quanto è durato l'impero atenese che è durato 70 anni Pisistrato ha come suoi sostenitori quelli che potremmo chiamare il demo il popolo gli aristocratici scendono a patti con lui Clisten fondatore si dice della democrazia atenese a un certo punto ha ricoperto l'arcontato durante la tirannide di Pisistrato quindi la famiglia degli Alcmeonidi una famiglia importantissima ad Atene era scesa a patti col tiranno conviveva e collaborava però eleuteria è la parola con cui loro rivendicano la contrapposizione al potere incontrollato del tiranno sulla natura di potere incontrollato potremmo fare tante chiose ma ci porterebbero un po' troppo lontano invece democratia è una parola che nasce in modo strano in opposizione ad eleuteria ed è una parola che è usata almeno in base ai testi che noi abbiamo all'inizio nella sua composizione piena che è rimasta tale quale in tutte le lingue come un termine negativo il kratos che vuol dire forza ma vuol dire anche violenza del demo che non piace agli aristocratici e per esempio l'opuscolo famoso sul sistema politico atenese che è tramandato tra le opere di Sinofonte ma non è probabilmente opera sua ma è molto precedente il termine ricorre continuamente ma viene usato per indicare il peggio possibile è un male dovunque sulla terra la democratia dice questo autore che invece rivendica che i ricchi i buoni gli aristoi governino e se loro governeranno cioè si avrà la eleuteria la libertà il popolo orribile ridiventerà schiavo questo è un po' diciamo l'orizzonte mentale in cui si colloca la parola eleuteria nel lessico combattivo del conflitto politico nella Grecia arcaica e questo riecheggia questo elemento in un testo famosissimo che ogni tanto viene citato giustamente anche perché è molto noto ha un valore simbolico ma è spesso frainteso e cioè quel grande discorso diciamo educativo che Pericle pronuncia ma noi abbiamo la parafrasi fatta da Tucidide nell'opera sua storica chiamato epitafio cioè commemorazione dei morti in guerra del primo anno della guerra del Peloponneso poi Pericle muore di peste e quindi esce di scena e come sempre almeno quello che riusciamo a capire dai testi superstiti in quel tipo di oratoria il cosiddetto epitafio che potremmo chiamare una seduta collettiva di educazione civica fatta tutti gli anni a beneficio dell'intera città in una cerimonia particolarmente solenne quella per commemorare i morti in guerra di quell'anno e ci sono sempre tali e tanti conflitti che l'occasione è annuale inevitabilmente come sempre in quel tipo di discorsi l'esordio è una descrizione positiva naturalmente del modello politico vigente nella città perciò è una seduta potremmo dire di educazione civica collettiva ed è curioso si è tanto discusso è vero che Perire parlò in quel modo non abbiamo modo di verificarlo naturalmente molti pensano che quei discorsi siano totalmente inventati io credo che in parte questo non sia anzi Tucci dice di essersi sforzato di riprodurre quello che era stato detto comunque quello è un caso a parte e lì l'oratore che è l'oratore ufficiale che esalta la città e quindi dovrebbe parlarne nel modo più positivo possibile arrivato a descrivere il modello politico vigente dice noi abbiamo un sistema diverso da quello di tutte le altre città il che è già un po' strano perché tante altre città legate ad Atene avevano lo stesso modello politico in realtà ma si riferisce al mondo spartano che fisicamente vicino ma molto diverso e diverso dalle altre città il termine con cui lo si definisce il nostro sistema politico è democratia però da noi vige la libertà e l'euteros liberamente avverbio dei politè che è molto spesso sfuggito questo passaggio ma è molto significativo ovviamente noi non sappiamo se Perigli abbia detto veramente questo perché al tempo suo 430 29 avanti Cristo ormai l'autocoscienza politica del demo atenese è che la democrazia è un valore positivo quindi è un po' strano che Perigli dica la parola è quella lì però noi salvaguardiamo la libertà è probabile che questo non sia stato detto in quei termini però è interessante che sia giunto a noi in quella forma perché sta a significare che nella testa di un pensatore quale è certamente tucidide politico che si arrovella sui modelli qual è il miglior modello di politica di sistema politico e lui a un certo punto si invaghisce anche della oligarchia moderata ecco nella sua testa quei due termini sono in contrasto quindi riecheggia l'idea che eleuteria è un valore totalmente diverso più elevato rispetto al pur sempre pericolosa democratia cioè forza violenza predominio del demo Aristotele del resto molto dopo naturalmente in un passo della politica dice la democrazia non è il governo della maggioranza è il governo dei poveri cioè dei non possidenti quello è quale che sia il loro numero ed è questo l'elemento che spiace al mondo aristocratico per cui il termine e il contenuto di quel termine è guardato con sospetto con fastidio ci sono però alcuni punti di contatto tra il mondo romano del quale abbiamo detto libertas è un minimo e il mondo atenese dove la pratica politica assembleare concede un massimo di diritti ed è nelle competenze questo va sottolineato dice ancora Aristotele parlando del funzionamento delle assemblee popolari nelle città in cui c'è l'assemblea popolare naturalmente al primo punto si riuniscono periodicamente al primo punto all'ordine del giorno ogni volta c'è pace o guerra quindi l'assemblea popolare è chiamata a decidere sul tema se entrare in una guerra o no se farla o no il secondo punto è la questione sociale e cioè ci sono garanzie sufficienti per i non possidenti quindi addirittura il punto uno è pace o guerra il secondo è la questione economica chiamiamola così e in realtà anche nei comizia romani o meglio potere appannaggio dei comizia romani è esprimersi sulla scelta pace o guerra anche se poi la decisione viene presa dal potere politico dai consoli che chiedono un parere al senato e il senato è sempre più potente e quindi il rapporto è sperequato i consoli in certo senso eseguono quello che il senato decide sebbene in origine il senato sia un organo consultivo e i consoli siano la proiezione in un contesto di libertà di libertas del potere monarchico come spiega Livio quando parla della nascita della repubblica romana dice che la differenza sostanzialmente dice questo tra il sovrano e i consoli è che i consoli sono due e durano un anno solo mentre il sovrano è uno solo e dura finché campa però il contenuto di potere è lo stesso sia pure diviso tra due persone che si controllano a vicenda e capite benissimo che a quel punto il senato è davvero un organo consultivo anche se è una tradizione per noi incontrollabile che conosciamo grazie a un antiquario bravissimo storico antiquario greco di cose romane che si chiamava Dionigi di Alicarnasso ci racconta che Romolo in realtà fu ammazzato dai senatori in senato e allora erano cento i patres la cosa poi si trasformò nel fatto che Romolo era stato chiamato in cielo che è un modo anche interessante diciamo di risolvere un problema di assassino politico ci si chiede se non ci sia sotto un'allusione all'assassinio di Cesare in pieno senato naturalmente in questa tradizione tardiva non sappiamo come è morto Romolo pazienza però quell'aneddoto sta a significare che già all'origine i patres sono un organo consultivo ma contano sempre tantissimo e nella tarda repubblica contano ancora di più naturalmente come sappiamo da tantissime fonti